Forse col video sui nervi ai ciccioni non sono stato molto chiaro, e quindi qui voglio esprimere tutto il mio odio, il mio sconforto e il mio schifo verso una fetta di lettori di fumetti, quelli sfigati che, all'alba del 2013, si ostinano ancora a credere che una troia di merda non sia in grado di leggere un fumetto. Voglio dire, dovete davvero umiliare quella briciola di mascolinità che avete, diventando degli zerbini ridicoli che se ne escono con frasi tipo, oddio ma sei una polla e leggi, fumetas, ma tu ti sei mitica, mi devi sposarmi subito Y, X, D, X, D, U, U, X, D, ce n'è bisogno, non potete semplicemente fare un favore a chiunque, per grazia divina, uccidervi, posso anche aiutarvi e prendervi a rondellate forti e decise sulle tempie, sia mai che diventate persone intelligenti e con un po' di giudizio, tanto al limite rimanete per terre agonizzanti.